Claudio ha 9 anni, sogna di diventare un campione anche se è sovrappeso e il calcio è necessario per la sua salute. Leonardo ha 12 anni e un cuore del grande capitano, sempre pronta a certificarsi per i compagni in difficoltà. Anita ha solo 6 anni ed è una bambina con problemi di socializzazione, ma finalmente ha provato un po' di sicurezza sul prato verde. Per tutti il momento più atteso della settimana è la partita di campionato, adrenalina ed emozione, paura e coraggio. I genitori di Claudio lavorano anche nel weekend, Leonardo ha solo la mamma che deve badare anche gli altri due fratelli e la famiglia di Anita non può permettersi una macchina. Claudio, Leonardo e Anita da due settimane non vanno più neanche agli allenamenti, mentre i loro compagni giocano sono soli a casa davanti alla tv. Claudio, Leonardo, Anita e tanti altri ragazzi hanno bisogno di te.